Dopo l'ottimo avvio di stagione con la vittoria esterna sul campo di Martignacco il volle sovraverato prepara l'esordio stagionale in casa. Questa volta l'avversario di turno è l'Olbi e siamo con il vice coach Diego Boschini. Una partita impegnativa anche quella di domenica prossima. Sicuramente voi siete dominati dalla gran voglia di far bene davanti al proprio pubblico. Si è tornati anche al Palas Coppa per gli allenamenti e per la partita di domenica prossima. Quindi un motivo in più per fare bene? Assolutamente, un motivo in più per fare bene perché ritorniamo finalmente a casa. Come ho già detto in questa settimana, finalmente abbiamo riperto il Palas Coppa e siamo contentissimi di poter giocare la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi. Questa è una gioia immensa anche per noi, per le ragazze che ci tenevano tanto e anche noi, chiaramente lo staff, ci tenevamo tanto. Olbi è una partita comunque insidiosa ma come del resto in questo girone per ora non conoscendo i livelli anche dalle altre squadre perché si conosceranno mano a mano essendoci comunque tante squadre nuove e tante squadre rinnovate come anche noi stessi mano a mano troveremo vari livelli e vari gradi dalle squadre di difficoltà chiaramente. Olbi ha, vista video, sicuramente ha delle doti importanti nell'opposto che abbiamo incontrato già anche la passata stagione che è Mancina ha un posto 4 molto importante, la straniera che sicuramente ci danno un sacco di filo da torcere loro non verranno qua sicuramente per fare una passeggiata verranno qua per poter vincere la partita e noi dobbiamo essere bravi già da ora a non sottovalutarli e a non sottovalutarci quindi dobbiamo rimanere concentrati, continuare il nostro percorso andare avanti, il nostro percorso di crescita e vedere che cosa riusciremo a raccogliere. Inevitabile anche un passo indietro alla partita di domenica scorsa a Martignac con un 3-1 importantissimo per iniziare bene ma tante risposte positive dalla squadra che non era neanche al completo già usceva non è potuta essere della partita ma chi l'ha sostituita ha fatto benissimo una squadra che ha fatto bene in tutti i reparti che ha saputo soffrire in alcuni frangenti della partita quindi questo sicuramente è un aspetto positivo. Sicuramente, noi sapevamo che in questa partita di Martignac la partita che abbiamo appena giocato eravamo comunque in una fase da preparazione abbastanza delicata quindi sapevamo che prima o poi le risorse sarebbero finite quindi il terzo set è stato per noi il momento più critico poi giustamente anche loro molto probabilmente hanno calato anche la loro intensità perché anche chiaramente loro avranno fatto sicuramente una programmazione sulla preparazione atletica molto simile alla nostra. La forza di questa squadra, come parlavamo anche con Bruno è il fatto che è un gruppo in cui tutte possono dire la loro tutte hanno la possibilità di poter entrare in campo e dimostrare il loro valore e la forza di questa cosa va sfruttata assolutamente non deve essere vista come qualcosa di negativo anzi, ma una cosa sicuramente positiva perché comunque è un campionato lungo, lungo e difficile e sicuramente avere la possibilità di poter far giocare tutte le giocatrici per la formula di questo campionato è sicuramente un valore aggiunto. Una delle principali protagoniste della bella vittoria nell'esordio in campionato a Martignacco è sicuramente Irene Bottarelli, opposta del Valle Soverato top scorer del match ma soprattutto al coronamento di una prestazione di squadra importante quella vostra su un campo sicuramente non facile. No, sicuramente è stata una partita difficile per noi e per tante varie cose infatti penso si sia visto dai primi punti in cui sembravamo un po' espaisate poi ci siamo sciolte, comunque Martignacco non è mai un campo facile loro sono una squadra molto ordinata e ci hanno messo in difficoltà in varie situazioni però la cosa più importante è che siamo uscite fuori insieme da tutto ci siamo veramente divertite in campo e secondo me è quello che si è visto e quello che ha fatto la differenza. Domenica prossima prima partita casalinga al Palascoppa arriverà l'Olbia, una squadra che ha perso all'esordio in casa ma che sicuramente non deve essere sottovalutata il Soverato ci tiene a fare bene davanti al proprio pubblico. Assolutamente, penso che in questo girone, in questo campionato nessuna squadra debba essere sottovalutata e finalmente siamo entrati al Palascoppa, siamo felici questo è stato il primo allenamento la mattina e stasera e non vediamo l'ora di vederlo pieno di pubblico. Infine una domanda sulla tua prestazione personale spiccano sicuramente i tantissimi punti realizzati ma ti aspettavi subito un esordio così in campionato al primo colpo perché sicuramente è stata una prestazione che veramente ha trascinato anche il resto della squadra. Questa è difficile, questa domanda è difficile no vabbè non vedevo l'ora di entrare in campo questo lo devo dire non vedevo l'ora di entrare in campo e di fare bene per questa squadra dopo tutte le varie cose che abbiamo passato e sicuramente la mia prestazione, la mia partita è merito delle mie compagne assolutamente perché comunque la palla a volo è che si gioca da soli e le devo ringraziare per avermi messo nelle condizioni di fare una bella partita.